Come state? Vi ritrovate un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte e dai che arriviamo presto a 20.000 iscritti, forza, forza, forza. Allora, negli ultimi giorni le indiscrezioni non si contano più, sono sempre più insistenti, rumorose e anche autorevoli. Il giocatore in questione è Teo Hernandez, che ricordiamo ha 26 anni, ne parla 27 a ottobre e fin qui ha fatto una stagione con 4 gole e 3 assist in Serie A. Due assist in Europa League, un assist in Champions, tre assist in Coppa Italia. In totale 4 gole e 9 assist per un giocatore che ha avuto anche dei periodi un po' deludenti, ma ha fatto anche con grande applicazione il centrale di difesa. Allora, si parlava del PSG, ma nelle ultime settimane, negli ultimi giorni e nelle ultime ore si parla insistentemente del Bayern Monaco, che vorrebbe sostituire Alfonso Davis, destinazione a Real Madrid, con Teo Hernandez. In particolare ne scrive e ne parlano anche i colleghi della Bild, che come sapete in Germania è decisamente autorevole. Zona Milan sta circolando che cosa? Che Milan vuole rinnovare con Teo Hernandez, che ha un ingaggio da 4 milioni più 500 mila euro di bonus, col decreto crescita, è chiaro che però senza decreto crescita rinnovare è un esborso in più per un club che è sempre molto attento al centesimo, mi verrebbe da dire. Però ecco quello che fa riflettere che dal Milan non esce, Teo Hernandez è incedibile. Dal Milan esce, noi siamo contenti, vogliamo rinnovare, se arriva una cifra da 100 milioni ci possiamo sedere a parlare. Quindi purtroppo, o per fortuna dipende dai punti di vista, hanno appiccicato addosso alla maglietta di Teo Hernandez il prezzo, 100 milioni di euro. Significa che a quella cifra può andare via, forse quella cifra è giusta anche che vada via, qualcuno dirà, non lo so. Però ecco, non è incedibile e già oggi, siamo a fine febbraio, c'è margine, possibilità per acquirenti di venire e prendersi Teo Hernandez, seppur la cifra sia importantissima perché il Milan, ripeto, lo valuta a 100. Però un conto se tu dici è incedibile, ma se inizi a dire a 100 ci sediamo è perché tu sei disposto a farlo partire a una cifra importante. Ditemi che pensate anche di questa strategia, commentate numerosi, lasciate un like e iscrivetevi qui. Un saluto.